Ciao, sono un fotografo, vado in giro per Milano a fare foto a persone sconosciute che incontro per strada e reputo interessanti Mi sembri molto interessante e anche un bell'outfit Posso farti qualche foto? Certo, grazie E poi pubblico anche un TikTok, va bene? Va bene Ok Vi faccio vedere bene E tu cosa fai nella vita? La modella, sì, sono una modella Ok, allora, ho visto bene all'occhio, ho visto bene da lontano E poi sono solito chiedere a fine video un consiglio per le persone che guardano il TikTok per la vita, non so Di sorridere sempre se sempre positivi Ok, grazie Prego